di non facile accesso al quale è stato tolto il pronto soccorso e la comunità locale che abbiamo coinvolto subito nel percorso per capire come potevamo ovviare a questo sistema, come possiamo aiutare, quale contributo possiamo dare perché riabbia il reparto di pronto soccorso e i servizi minimi annessi perché ci deve essere non solo il reparto pronto soccorso con una scatola vuota, ma deve esserci anche gli operatori e quelle specialità minime come gli animatori anestesisti in grado di garantire la sicurezza del paziente ricoverato. Come possiamo intervenire? A fronte di un importante coinvolgimento della popolazione, c'è stata una petizione che ha raccolto 18.000 firme che abbiamo portato qui in regione, abbiamo promosso un'azione per chiedere che questo ospedale in funzione della classificazione prevista dal decreto ministeriale 70 di area disagiata cioè un ospedale classificato, ospedale di area disagiata perché ha delle caratteristiche di difficile accesso tempi di percorrenza elevati al primo punto di pronto soccorso vero disponibile può essere classificato in questo modo se la giunta regionale ne fa domanda opportunamente corredata dalle informazioni necessarie al ministero viene concessa questa sostanziale deroga che però è prevista nel decreto ministeriale 70 2015. Quest'azione l'abbiamo coltivata a lungo, l'abbiamo seguita a lungo ma purtroppo è andata male cioè siamo arrivati poi a presentare la mozione in consiglio regionale e purtroppo è stata bocciata bocciata diciamo per in parte ragioni politiche in parte perché il direttore generale dell'ASL2 riteneva che non ci fosse un'esatta corrispondenza alle caratteristiche minime richieste dal decreto ministeriale 70 2015 perché si rifaceva ad alcune direttive del ministero che erano piuttosto vaghe sul tema perché purtroppo lì si apre poi anche un campo di contorni sfumati e grigi nei quali se c'è la volontà politica un determinato risultato si può ottenere se non c'è o comunque nel momento in cui sei all'opposizione non necessariamente riesci ad ottenere l'attenzione che peraltro 18.000 firme portavano con sé non riesci a fare. Comunque ciò non ci ha fermato e noi comunque stiamo progettando una serie di iniziative per mettere comunque in sicurezza l'ospedale e più che altro i pazienti che vi si rivolgono. Un'altra iniziativa che abbiamo fatto sul territorio in questo caso è relativa all'ospedale di Pietraligure l'ospedale di Pietraligure è insieme all'ospedale San Martino il secondo DEA di secondo livello nella regione Ligure sono solo due appunto San Martino e Pietraligure e poi vi farò i cenni perché appunto sono sempre figli di questa classificazione che prevede il decreto ministeriale 70. Su Pietraligure c'era un problema, c'è un problema tuttora cioè come è previsto dal decreto l'ospedale deve erogare un servizio di pronto soccorso pediatrico e deve avere un reparto di pediatria. L'ospedale però nera privo, quantomeno non era in grado di erogare il servizio di pronto soccorso pediatrico H24 questo almeno ad un anno fa. Quindi noi abbiamo preso in carico la questione anche in questo caso supportata da un'importante raccolta firme che insomma si attestava intorno alle 10.000 firme che chiedeva di ripristinare sia il reparto di pronto soccorso che la pediatria e abbiamo portato in consiglio regionale una mozione che questo peraltro ha inizio la legislatura che è stata approvata all'unanimità con diciamo la gioia di tutti. Però c'è un però che comunque sul territorio ci siamo e sappiamo e conosciamo come si evolvono le questioni e di fatto l'unico intervento che è stato fatto è attivare il pronto soccorso pediatrico anziché H12-H24 ma mancano ancora degli elementi come il pronto soccorso pediatrico è fisicamente distante dal pronto soccorso vero 400 metri e il pronto soccorso vero non ha ancora predisposto un'area dedicata dove inserire il pronto soccorso pediatrico per avere nella stessa area con l'accessibilità poi delle risorse necessarie mediche, infermieristiche per i casi di emergenza però comunque quella dovuta separazione che ci deve essere per un pronto soccorso pediatrico rispetto ad un pronto soccorso di adulti quindi abbiamo portato questa lacuna quindi non è ancora stato raggiunto pienamente il risultato che volevamo l'abbiamo portata in commissione controlli che è una commissione che abbiamo in regione dove si può chiedere conto delle azioni della giunta in termini di cosa avete fatto in funzione dell'ordine del giorno, della legge o del decreto che avete fatto cosa avete fatto? Avete fatto quello che avete detto oppure no? Abbiamo avuto conferma di ciò che già sapevamo però questo in qualche modo ha scatenato una serie di eventi a catena che stiamo seguendo in modo che si possa concretizzare al 100% il risultato il terzo elemento è stato un intervento sull'ospedale di Savona l'ospedale di Savona è un ospedale classificato DEA di primo livello, è l'ospedale della città Capoluogo e in questo caso siamo entrati in contatto con la necessità di un centro ictus a Savona il reparto in questione non aveva il centro ictus il centro ictus è un set, un insieme di competenze mediche, infermieristiche, apparecchiature per fare tutta una serie di diagnosi o di interventi diciamo di un livello successivo al base che possono ridurre fortemente l'acuirsi del fenomeno. C'è poi anche il centro ictus di secondo livello e tipicamente il centro ictus di secondo livello insiste, è presente negli ospedali DEA di secondo livello quindi l'ospedale di Savona per come classificato era privo di una funzionalità che in effetti per i numeri di casi che tratta l'ospedale ne aveva diritto sia per i parametri del decreto ministeriale 70 sia per la stessa classificazione dell'ospedale. In questo caso abbiamo fatto una mozione che chiedesse l'attivazione del servizio e questa è stata votata all'unanimità quindi è una buona notizia, tutto sommato è anche di recente approvazione quindi stiamo verificando che in questi mesi, nei mesi a venire, si attuino gli intendimenti che sono stati votati queste diciamo le azioni e tra virgolette per alcuni casi le buone notizie DRG LEA, allora un paio di considerazioni generali visto che oggi ne abbiamo discusso anche in consiglio sì, DRG come diceva il dottore è sostanzialmente come diceva Michele rispetto del suo ruolo come diceva Michele è un sistema per sostanzialmente dare un peso relativo è un costo medio ad ogni tipologia di servizio che il sistema sanitario nazionale offre ai pazienti quindi è una classificazione poi se vuoi ti do tutti gli elementi è accessibile direttamente dal Ministero della Salute ci sono proprio degli allegati con delle tabelle con proprio descrizione codice DRG valore unitario soglia minima perché poi cambia anche il valore in base alla degenza un DRG in base ad una degenza ad esempio di 5 giorni ha un certo valore medio da 5 a 10 giorni può variare il valore quindi no, il DRG è il sistema con cui il servizio sanitario nazionale rimborsa le prestazioni e come posso dire stima anche i costi perché la sanità viene vista anche come magari fa brutto però produce qual è il prodotto della sanità? il prodotto della sanità viene classificato nel DRG il prodotto è il femore DRG 50 costo 15.000 euro e questo cosa serve? serve per fare anche la stima in ogni regione dei DRG che ogni regione fa quindi ogni regione fa una produzione in base a questa stima io la faccio molto semplice non lo è però aiuta a ricostruire il percorso ogni regione stima la propria produzione di sanità e quindi poi si arriva al riparto per regione del fondo sanitario nazionale nel fondo sanitario regionale quindi c'è un percorso che vede ogni due anni circa è un percorso